Buonasera e benvenuti al TG Sport speciale mercato. Partiamo dal Napoli, c'è in collegamento con noi Giovanni Scotto. Ciao Giovanni, buonasera. Ciao Ivan, buonasera a te e buonasera a voi, ben ritrovati. Giornata di presentazioni per quanto riguarda il Napoli. Hanno parlato, Nathan e Cagliuste, cosa hanno detto? Com'è stato l'approccio? Sì, sì, una doppia conferenza stampa. Oggi a Castelvoltuno si è presentato prima Nathan, il difensore brasiliano, l'erede di Kim, ha detto di ispirarsi a Thiago Silva, un idolo per lui. Evidentemente si ispira a uno dei difensori brasiliani più forti e si è presentato anche con un discreto italiano, dimostrando quindi anche grande intelligenza e anche voglia di ambientarsi il prima possibile. Ha detto che ha lavorato duramente per farsi notare da un club europeo, coronando quindi un suo sogno ed è pronto a questa avventura. Seguirà i consigli ovviamente di Juan Jesus, suo connazionale, ma anche di Mario Rui che ha citato che evidentemente parlando portoghese lo sta aiutando ad ambientarsi. Per quanto riguarda Cagliuste, discorso più o meno simile, ha parlato in inglese, lui si è presentato come un calciatore d'utile, grande umiltà, ha detto non sono qui per fare minuti, per giocare il più possibile, sono qui per aiutare, per dare una mano e questo diciamo è un po' una novità, di solito i calciatori fanno capire che hanno voglia di trovare spazio, invece Cagliuste ha trovato questo approccio molto morbido che insomma è piaciuto, ha detto di poter fare tanti ruoli e di essere onorato e di entrare con umiltà in questa squadra di campioni, quindi molto umile l'altro nuovo acquisto del Napoli, lo svedese. Bene, quindi i tifosi hanno conosciuto i primi due acquisti del Napoli, per quanto riguarda invece questo braccio di ferro che c'è tra De Laurentiis e la FIGC per il caso Spalletti, si rischia addirittura il tribunale? Ah sì, diciamo che in realtà il braccio di ferro è più tra Spalletti e De Laurentiis, perché la FIGC ha semplicemente contattato Spalletti per proporgli la panchina dell'Italia, Spalletti ha detto di sì e poi chiaramente c'è questo ostacolo della penale. Ora deciderà Spalletti che cosa fare, c'è anche il timore che l'allenatore possa in qualche modo forzare la mano e sfidare Napoli, De Laurentiis in tribunale appunto davanti alla giustizia, poi da capire se la giustizia civile o la giustizia sportiva, per provare ad annullare questa penale che deve pagare Spalletti. Questi sono gli accordi, Spalletti ha rescisso il suo contratto con il Napoli, però questa penale lo impegna a fermarsi per un anno nel senso di una stagione, quindi fino al 30 giugno 2024. Quindi da capire se l'allenatore, ripeto, forzerà la mano o se si arrenderà a quello che poi è un accordo sancito da lui stesso e se si proverà a trovare una soluzione, anche se la FGC non è intenzionata a pagare la clausola, anzi sembra proprio una procedura non prevista, non dico dai regolamenti, ma proprio dalla prassi. Quindi una vicenda un po' intricata, però ricordo Ivan che domani, venerdì, per qualcuno sarebbe già arrivato l'annuncio di Spalletti alla FGC e questo ci fa intuire che potrebbe essere domani una giornata decisiva. Benissimo Giovanni, ti ringrazio, buona serata e buon lavoro. Ciao Ivan, a domani, buonasera a voi. Restiamo in Serie A con la Salernitana. Ci sono state le prime dichiarazioni del nuovo acquisto Legoschi, ci racconta tutto da Salerno, Giovanni Battista Ranzilli. Ciao Giovanni Battista, buonasera. Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Dopo giorni di estenuante attesa possiamo dire che il mercato della Salernitana di fatto ha subito un'importante accelerazione. In queste ore infatti il direttore sportivo Morgan De Santis ha di fatto definito quattro nuove operazioni in entrata. In particolare in queste ore il club ha ufficializzato una di queste operazioni, l'accordo con il centrocampista polacco Mateusz Legoschi. Il calciatore classe 2003 arriva a titolo definitivo ed ha firmato un contratto che lo legherà ai colori Granata fino al 2026. Io direi proprio di vedere insieme il bel video di presentazione proposto proprio dal club in queste ore con le prime parole in inglese ovviamente ma sottotitolate di Legoschi. Vediamo insieme. che ci sono molto felice di essere qui a signo per Salernitana. Il club e la città è molto bellissima. Io ho metto già i ragazzi in la sottotitola e sono anche molto amici e voglio mi aiutare. Prima di tutto, voglio adattare alla squadra come presto possibile. e poi faccio il mio meglio e voglio aiutare il team a giocare migliore fottobolo e ottenere qualcosa. Serie A è una squadra molto forte, è una top 5, quindi sono molto felice di essere qui in Italia. Come ho detto prima, voglio aiutare il team a essere più forte, e voglio avere numeri e asistenti. I can do here a good step forward and I hope I will go to the first team of Poland, of national team. Ciao a tutti, parole in massimo, forza salernitana. Queste dunque le prime parole da calciatore della salernitana di Legoschi. Intanto oggi Antonio Candreva ha celebrato un importante traguardo per la propria carriera, quello dei 100 gol siglati, l'ultimo messo a segno in Coppa Italia contro la Ternana, che ha consentito tra l'altro ai Granata di passare il turno e di sfidare la Sampa. Vediamo proprio la grafica utilizzata da Mastantonio, come ormai l'hanno ribattezzato affettuosamente i tifosi Granata, sui propri profili social. Candreva ovviamente, che prima della salernitana ha indossato le maglie di Livorno, Juventus, Parma, Cesena, Lazio, Inter, e della stessa Sampa, non vuole ovviamente fermarsi a quota 100, ed intende regalare anche altre soddisfazioni proprio al popolo Granata. E intanto prosegue la marcia di avvicinamento della salernitana alla prima partita di campionato in programma all'Olimpico contro la Roma. Per mister Paolo Sosa ci sarà da fare i conti con una vera e propria emergenza in difesa. L'obiettivo è provare a recuperare almeno Matteo Lovato, uscito malconcio dalla sfida di Coppa. Il test di oggi ha dato esiti confortanti e nello staff del Cavalluccio Marino c'è fiducia. Chi invece non sarà sicuramente del match è Lorenzo Pirola. Lo stop però non dovrebbe essere lungo, ma le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. Sosa non ha ancora deciso se confermare la difesa 3 con Lovato, Fazio e Ghiomber contro la Roma, oppure passare alla retroguardia 4 in un pacchetto nel quale non ci saranno né Daniliuk né Bron. I prossimi allenamenti saranno dunque decisivi per l'allenatore portoghese per sciogliere le riserve di formazione. Queste dunque le novità e le ultime notizie che arrivano dalla Salernitana. La linea può tornare allo studio. Grazie Giovanni Battista per quanto riguarda le notizie sulla Salernitana. Passiamo adesso al Benevento con Marcello Carli che vuole completare il centrocampo dei Giallorossi e per tale motivo il mirino è finito su Agazzi della Ternana. Quindi c'è questo discorso in bilico. Per quanto riguarda la difesa invece tra gli obiettivi del Benevento c'è il terzino Berra del Sud Tirol. Invece per quanto riguarda le cessioni quella di domani potrebbe essere una giornata decisiva per quanto concerne l'addio di Viviani che andrà sicuramente al Cosenza e quindi ritroverebbe Fabio Caserta. Si conclude questa telenovela con Viviani che quindi andrà al Cosenza. Tornerà quindi in Serie B e l'abbiamo visto Viviani comunque il Benevento ha cercato di cederlo e il Cosenza ha mostrato un interessamento. Alla fine si è trovata la formula giusta con il centrocampista che quindi andrà in Calabria. Intanto quest'oggi il Benevento ha ufficializzato l'arrivo di Pinato. quindi ha firmato il contratto, il quarto acquisto di Marcello Carli. Sonia Lantella è andata al Ciro Vigorito, l'ha intervistato. Ascoltiamolo. Marco Pinato fresco di firma, un triennale con il Benevento. Insomma eri quasi al Catania poi hai preferito la società giallorossa. Sì sì no beh è arrivata un'offerta importante e onestamente non c'è stata neanche una trattativa perché ho detto subito di sì e niente sono contentissimo di essere qui. Spero che vada tutto bene dai. Eri svincolato chiaramente per la mancata iscrizione del Pordenone. Hai avuto modo di allenarti, ti sei fatto seguire? Sì sì no beh io ho un mio preparatore personale a casa a Monza. Ovvio che magari adesso bisognerà mettere altri minuti nelle gambe perché ovviamente non è come allenarsi con la squadra però penso che si abbia il tempo per fare tutto e iniziare bene il campionato. Conosci un allenatore che qui ha fatto la storia. Eri il pupillo di Filippo Enzaghi, ti ha contattato? Sì sì il mister mi ha scritto. Beh io e il mister abbiamo un rapporto che va oltre il calcio quindi lo sento nel quotidiano per altre cose. Oggi mi ha scritto che si è speso quindi di fare bella figura e ho detto che proverò a fare il massimo che posso fare per non deruderlo. E sì primavera Milan e Venezia quindi insomma ti ha cresciuto possiamo dire. Sicuramente ecco un obiettivo importante è quello del Benevento che vuole tornare presto in Serie B. Ecco anche l'ambizione ha fatto colpo. Sì sì beh il Benevento è una piazza che merita di stare sicuramente in altre categorie però bisognerà calarsi bene nella categoria della Serie C perché è una categoria tosta, difficile, i giorni C è difficile, ci sono altre squadre che si stanno strutturando bene. Noi penso che se staremo tranquilli e avremo l'idea di vincere le partite potremmo fare un ottimo campionato e l'obiettivo sarà sicuramente vincerlo. Le tue caratteristiche da centrocampista? Sono un centrocampista duttile nel senso che mi piace fare un po' tutto. È ovvio che sono più propenso magari alla fase offensiva però ormai nel calcio bisogna sapere fare tutto e penso di poterlo fare abbastanza bene dai. Dai poiché conosciamo il modulo di Andreoletti che sarà un 4-3-3, ti vedi più perno centrale o mezzala? No beh sicuramente il mio ruolo è la mezzala e poi ovvio il mister può adattarmi, usarmi dove vuole però il mio ruolo naturale è la mezzala. Hai avuto modo di conoscerlo? No, non l'ho ancora incrociato, l'ho incrociato l'anno scorso quando l'ho visto due volte contro la Pro Sesto e adesso avrò modo di conoscerlo anche personalmente. Tra l'altro conosce anche qualcuno del Benevento? Sì sì, ho giocato con Benedetti l'anno scorso e quindi lo ritroverò anche quest'anno. Poi ho giocato con Meccariello ma al di là di tutto conosco anche Moncini, adesso vediamo tutti i ragazzi. Penso che ci metterò poco a conoscere anche il resto della squadra. Un saluto ai tifosi? Io saluto tutta la piazza di Benevento, tutti i tifosi di Benevento e ci vediamo allo stadio. E quindi abbiamo ascoltato l'ultimo acquisto del Benevento, restiamo in Serie C con Carmine Quaglia che ci racconta le ultime notizie delle altre campane di terza serie. Ciao Carmine, buonasera. Buonasera Ivan, buonasera a tutti i nostri telespettatori. In apertura di collegamento l'Avelino non ci sono particolari novità di calcio mercato, sono ore di test per le formazioni, prove generali per la squadra irpina verso il campionato. Priorità cessioni al netto di una fase che è di stand-by. Ma Mamadou Canuté è seguito con attenzione da Catania e Gubbio rumors che si susseguono da settimane per l'attaccante e potrebbero essere decisivi i prossimi giorni per una delle uscite immaginate dall'Avelino dopo gli acquisti finalizzati nei giorni scorsi, ovvero Tiago Cionec, Michele Rigione e Salvatore Pezzella. L'altra cessione richiama all'obiettivo di Messina e Taranto, ovvero Vincenzo Plescia, anche protagonista nel corso del ritiro di Palena, coinvolto nelle dinamiche della preparazione, ma destinato a non rientrare nel progetto tecnico di Massimo Rastelli. Rientro al Partenio Lombardi per l'Avelino, per la Juve Stabbia, ripresa al Menti dopo alcune ore di relax per le Vespe, lavoro tecnico-tattico, partita finale, si va a caccia dello sprint per l'esordio in campionato, distante ma ormai fino ad un certo punto. Rientro dopo la pausa di due giorni garantita dallo staff tecnico al termine del test con il Picerno, in cui i Lucani hanno superato le Vespe con il finale di 2-0. Sono previsti altri allenamenti congiunti verso il weekend del 3 settembre, fase in cui si aprirà ufficialmente la stagione. Sarà test con il Monterosi in trasferta, nel frattempo sul fronte mercato c'è l'arrivo di Giuseppe Leone per il centrocampo, biennale per l'ex Siena, già allenato da Guido Paiuca nel club toscano. Ripartenza anche per la Turris, è in programma domenica un nuovo test con la Nocerina al Liguori, nella rosa dei Corallini dovrebbe esserci la conferma di Paolo Frascatore, c'era il Cesena sul difensore classe 92, ma l'affondo vero e proprio non è arrivato. La Turris inoltre aveva posto un limite temporale all'eventuale uscita di Frascatore per le dinamiche di mercato e per Bruno Caneo il calciatore è un elemento chiave, convinti che rimarrà con noi così il tecnico nelle scorse ore. Rientro al pinto per la Casertana dopo tre giorni di riposo con il Ferragosto di Relax, una nuova fase della preparazione precampionato per i falchetti guidati in panchina da Vincenzo Cangelosi. Per il mercato il sogno è rappresentato da Mirko Carretta, l'attaccante reduce dall'annata vissuta con il Sud Tirol in Serie B. C'è anche l'idea Camille Glick per la difesa, un sondaggio effettuato dal club rosso-blu nell'attesa dell'ufficialità del ritorno in terza serie. Ivan, è tutto, la linea a te. Benissimo Carmine, grazie per il focus sulle altre campane di Serie C. E termina così il Tg Sport Speciale Mercato. Buon proseguimento con i programmi di 8 Channel. Arrivederci. Grazie a tutti.